oltre 50 iscritti in un solo mese 450 in totale da quando è stato avviato ampio l'interesse anche da parte di enti pubblici organi di informazione per il servizio info atti del consiglio regionale un modo veloce per essere informati via mail su provvedimenti legislativi e deliberazioni interrogazioni interpellanze presentate discusse approvate in aula e in commissione per accedere dal sito www.cr.piemonte.it tendina leggi e banche dati si clicca su info atti del consiglio e si effettua la registrazione